Bentornati su Sanitarium Grazie Ah, e si, sei pure divertita Cosa c'è qui? Si può andare di qua? A parte che quella mi si chiama Maria Ah, si può andare di qua per tanto per dire Perché poi non ti fa prendere nessuna parte Non ha gli occhi Ecco Maria E' arrivato un elemento esterno che si chiamano madre? Non ho capito. Tu mi scopi un po' di più Poi mi raccontare a me? Inizia al principio? Mi scopi Se vogliamo capire cosa sta succedendo Penso che ci sono molti di giorni e cose in the town hall but I haven't seen them come back in a little while and we'll talk some more I'd show you the way to the town hall but my eyes I've read the old newspapers in the town hall Oh good you found it what do you want to talk about now I haven't seen any adults in this town where are they where are your parents I'm sorry but mother has forbidden us to talk about them I'm so sorry I'm so sorry I'm so sorry but it doesn't sound like she's anyone's real mother who is this person she's resting right now otherwise I wouldn't speak to you you're right though she isn't anyone's real mother she's really what is it Maria I think she's waking up I can't talk anymore mother will hear me get awful mad but damn it damn it maledetto you didn't wake up sister sister oh my god but why why can't you talk about your parents please don't be mad I tell you if I could it's just that well I'll be punished again if I do punished how oh dio mio questo pumpkin not that it doesn't look so bad trash everything turns bad you've been in there before yes the others drag me in there what's that the other children they did as they were told mother wanted to teach me a lesson what lesson Maria not to look for our parents mother said we should never ever do that but I was too curious mother saw me she told the other kids that I was bad but then she made them put me in the patch I don't remember much just those nasty birds black wings they pegged in my eyes it hurt a lot but when the birds were done mother took pain but that's horrendous how could she do such a thing to a child it's okay it's not so bad now I'm kind of used to it anyway once mother wakes up everything will be better how is it? how is it? how is it? how is it? just a man I don't want to talk about it anymore oh the newspaper is mentioned a preacher named o'too did you know him? oh he was real scared about the comment I remember him saying at church that god was mad about the pumpkin and that he was gonna punish us for taking advantage of the land è un'escalante è un'escalante è quello che è successo? è una comet che diventa un'escalante un'escalante? la madre ha detto che la comet è stata una linea è una signa che siamo un'escalante non è la botta la porta ha un'escalante ha un'escalante la mia escalante la sua escalante per aprire questo ora vediamo voglio tentare mettere una combinazione aspettate no non funziona no ok devo trovare la combinazione in qualche modo vediamo un po' se questi bambini non parlano ciao bella ah mi fa parlare di meglio mi fa parlare di più è l'escalante è lì è l'escalante è l'escalante è l'escalante è l'escalante non ho capito perché sono buona bella possiamo parlare un'escalante non ho capito è l'escalante grazie molto gentile bella non mi fa parlare così è lì lo sembrane ma non è l'escalante non lo so è l'escalante no la storia ha parlato non lo so Qu'è un po' che c'è l'agenda? Qu'è un po' che c'è? ...economica, questo è il finale edizione di OBSERVER. ...e altro altro. ...cattro di riscaldi che aiuto a Drescoli di riscaldi... ...drappi. 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 ... ...percę essere un buone tele. ...ma mia è presente a montare o così nickelémenti. ...aut embargo che hai sai qui? ...drappi. ...e tonti. ...cоко gli OBSER su iανti. ...drappi. ...e network dei ripi non è vero il Championships. Noi avevamo i numer�� освobili Spanish일. Presidi un ascoltato. ... choices di come indone la terminata della originale. ...pada una risposta ovula. ...in questo settore. Certo. Penso che crederò a lei. Non è che tu sbaglio il 451, vero? Certo. Non lo so, non lo so. Cosa c'è, basta con un canto? Purtroppo io parlo prima di tutti questi bambini, ma quei due che sono su altalena non si schiodano Quattro, cinque, uno Quattro, cinque, uno E' la stessa cosa che ha detto la bambina Che Meg l'ha battuta quattro volte, Eileen l'ha battuta cinque e noi l'abbiamo battuta solo una volta Mi stai prendendo quelli, giuro che si scatta Troppe coincidenze, siamo già due volte che mi capita questo tipo Quattro Cinque Non ci credo Ah beh Funziona bene non ho saia besta no non ci credo ah sono risultato qua vabbè quante vite avrò? spero tante beh non ci credo vabbè sono è la mia l'ansia vado lo spaventaprassi vado lo spaventaprassi cazzo quella è la cometa vabbè lo siamo avvicinati abbastanza non, 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 non muoviti muoviti muovi oh mamma ce l'abbiamo fatta beh beh voglio aprire sto cancello no speriamo che non abbiamo dimenticato nulla come pure metallico c'era un sacco di posta del circo mi deve essere questa qualcosa passata grazie al bifo e facciamoci tutto il puzzle al contrario ma si potrebbe aprire madonna santa oddio che fra tutte e due lo possessi più belle equipe questa volta perché questa è tutta ed è incazzata pure è incazzata pure è incazzata Ah scusa mia, pubblica! il fatto è che sei esattamente in una situazione non può più cagina e mi è spazio animali, sacs, flu, e le cose non è il fatto che un'imperiore sono le spiare di queste donne ma perché hai fatto questo? le donne sono in danger E' un danger Ma senti, e' un pifo Che' made me see the evil of your God How...Distractive Shedda Preyed upon his own child Making her suffer And die The entire town Turned a blind eye In Shedda's crimes And I watched The people's vicious Disregard for Keral's safety no less a crime than her father so you killed them their own inner chaos would have destroyed them eventually i only expedited the event set things in order this is that carol why were you so concerned about carol she talked to me when no one would listen i tried to communicate with them but carol's voice was like music to me she was my favorite and i failed her how does the preacher figure in the world this? what could he possibly have done? he was a superstitious fool he spread paranoia fear swaying me and 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 Grazie. che buffo ci sono degli elementi in comune con questo mondo e quello con il quale siamo partiti nel senso, siamo partiti che tutti erano evacuati dalla torre, tranne alcuni pazienti perché c'è un incendio mi stai dicendo che secondo te qualcuno ha piccato l'incendio e poi ha nascosto via gli adulti a casa? fammi capire ovviamente oddio mio si certo la sfumazione trasformare le cose in semplici? si chiamate questo salvazione? semplici planti insolente ma no 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 ma come si stesse che ci fai un fuori? eccoci la chiave ok adesso con cosa posso togliere il tubo ma prima che andiamo che mi dimentichi come la sensazione questo vada qui ah no ma qui va bene fa niente andiamo con la nostra lentezza andiamo di nuovo ah no aspetta penso di dover fare qualcosa al porto alla macchina quanto sei lente dimmi che al tuo punto ti mettono allora no sul serio? tre ore a tentare di farti mettere il cazzo di tubo? adesso possiamo andarcene? è mortuto del capo di indietro Cristo santo che cazzo comunque cosa succede? è stato bello incontrarvi io poi non ti rimango a secco perché potremmo ascoltare vostra madre cioè la madre però continuate così stiano cioè come aveva detto Lenny nell'attore che Lenny aveva detto che la madre aveva mandato via tutti i bambini a parte che noi non abbiamo incontrato Lenny qui non mi è sembrato di vedere Lenny cioè la madre aveva detto che aveva mandato via tutti i bambini tutti gli adulti a scuola aveva detto Lenny effettivamente li abbiamo trovati a scuola poi aveva detto che era stato capito perché aveva mangiato una torta di zucca e per questo era stato messo nel patch cioè qui come maghiro non ci sono che bella cosa non vedo l'ora siete pronti? 3,2,1 voglio vedere la tua forma straordinaria per far vivere a questo wow c'è una luce lì, quella è Maria Mary questo è un po' una coda però che cos'è? che cazzo? no non ho salvato non ho salvato no 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 no